Sono almeno 30 le vittime, in prevalenza ragazze falciate dall'ultima bomba esplosa presso una scuola media in un distretto shita di Kabul. I talebani hanno condannato l'attacco e accusano lo stato islamico. Le ambulanze giunte nei pressi della scuola Syed al-Shadda hanno trovato una folla inferocita che ha aggredito gli ambulanzieri. Il portavoce del Ministero della Salute ha implorato i residenti di cooperare. Nell'ospedale più vicino alla scuola sono stati visti per terra almeno 20 cadaveri e moltissimi feriti. Grazie a tutti.